cari amici appassionati di videogiochi bentornati su console generation live un po in diretta a volte sì a volte sì un saluto da andrea e da raffaele che raffaele ragazzi sì sì perché mi è venuto in mente che raffaele che vuole la potenza diventa possessore della console più potente del mondo perché è arrivato anche in casa arrivata anche in casa 5 grana xbox one x eccola qua eccola qua ma si vede si vede non lo so non la vedono è perché loro ci stanno ascoltando su spreaker in podcast chi ci vede in video sette anni consecutivi senza quasi mai saltarne uno questo quest'estate mi sa che qualcuna però ce la saltiamo stai tergiversando stai glissando sulla disponibilità non l'ho ancora montata xbox one è un cavo il cavo hdmi e l'alimentazione devo fare il backup dalla xbox one s e quindi ci vorrà un pochettino di tempo devo fare gli aggiornamenti del software è uscito giusto oggi un aggiornamento nuovo che porta alcune funzioncine in più insomma mente visto che mi fai pensare alla nuova modalità che hanno le console da qualche anno a questa parte molto come dire verso il pc con tutti gli aggiornamenti è vero non è sempre tutto così rapido come una volta hai ragione anche tu va bene ma la monterò questo raffaele facci sapere perché sei passato a one x hai aspettato per ovviamente braccino da t-rex hai risparmiato la 200 euro eh sì perché mi sono beccato il rinnovo locali dell'uni euro di cesano boscone in provincia di milano dove l'ho pagata 299 euro andrea mi mancava la volevo da tanto tempo e finalmente arrivato di comprarla gli ha dormito nel parcheggio per aspettare l'apertura voi non potete capire raffaele però sappiamo che raffaele tiene molto al brand xbox perché si può dire raffaele tu come titoli xbox hai sempre trovato soddisfazione nella storia dei videogiochi beh sì devo dire sì sono sincero e con xbox one x non credo che le cose cambieranno granché perché purtroppo il parco software è quello però quantomeno i titoli multi piattaforma mi aspetto che girino meglio rispetto a quanto li sto giocando adesso quindi vediamo un pochettino poi partiamo con la puntata però prima di iniziare la diretta abbiamo detto io raffaele quanto durerà questa console raffaele perché i3 ha visto microsoft parlare già anche del futuro sappiamo che sony non è abituata non ci ha abituato ad avere delle anticipazioni sulle prossime macchine sull'hardware del futuro mentre phil spencer ha detto che stiamo lavorando perché vorremmo rimanere sempre ai vertici della delle performance esatto caratteristiche hardware quindi quanto durerà questa one x ebbè però è un paio d'anni in auge sicuramente sì un paio d'anni tempo che arrivi la il successore la nuova console che a quel punto sarà ancora più potente ovviamente come giusto che sia e quindi per tutti quanti i giocatori che vorranno avere l'esperienza ancora più evoluta dovranno ovviamente passare la nuova console che spero mi auguro auspico che non costi 499 euro ancora come questa perché devo dire che insomma può fare la differenza è la pesa 299 che vuoi no 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 intendo l'uscita il prezzo effettivo di questo prodotto prezzo comunque di 499 euro che non è un prezzo popolarissimo certo una console super potente ovviamente quel prezzo anche lo vale pensando a un mercato un pochettino più ampio ecco auspicherei per un 50 euro in meno non lo so io non ti so rispondere più come diciamo così come caratteristiche hardware di mercato ne sai più di me però vi motivi che non possiamo dire in questo momento in diretta sul console generation ma perdonami se una scheda video immaginiamo di un computer prestante a prezzi superiori nel 2020 portare a casa il nuovo gioiello tecnologico in chiave console non credo che arriveranno ancora con i prezzi modici che abbiamo visto in passato io non sono di questa idea e mi dispiace io auspico non è che speriamo lo so che non sarà che il prezzo purtroppo vorrà la sua vorrà il suo obolo va bene in questa puntata di console generation abbiamo ho provato lego gli incredibili ma poi ci sono le news che arrivano da spazio games salutiamo tutti gli amici di spazio games e li ringraziamo per stare insieme a noi e invitare tutti i loro lettori a stare in compagnia con noi raffaele poi andiamo a salutare anche i nostri in chat e dobbiamo ricordare a coloro che ci ascoltano di entrare in chat come raffaele andando sull'applicazione di spreaker ovviamente la scaricate sul vostro smartphone oppure andate su spreaker.com sul vostro pc e ci ascoltate in diretta entrate nella chat e potete dire tutto quello che volete un po come fanno lello francesco ale marco che marco tra l'altro dice meno dieci giorni alle ferie quindi è proprio intenzionato ad andare a rilassarsi un po sì poi sebastiano massimiliano e chi altro ancora luca matteo e basta per il momento ciao a tutti ragazzi grazie per essere con noi anche in questa serata estiva a tema video games non solo le news di spazio games ci sono anche gli annunci improbabili forniti sempre dal nostro marco che in chat disponibile per disquisire insieme a voi su annunci fetenti ovvero le curiose inserzioni a tema video games che fanno schifo nel senso non che marco ce le fornisce male che proprio le cerca apposta perché devono farci ridere a volte e anche altro poi ci sono la resident evil curiosity la bomba della settimana il brano di chiusura di pierluigi bellini non so generation è questo ma partiamo perché raffaele che abbiamo fatto che abbiamo fatto andrea ha voluto fare l'eroe perché andrea così si veste mette la maschera fa lo splendido si lecca un po i capelli che se li porta un po indietro si mi sono anche tagliato male la barba ho dato la zappata cioè il buco nella barba la sua magliettina aderente rossa il mantellino nero diventa uno della famiglia degli incredibili incredibili sì di disney ricorderete disney pixar questo titolo uscito al cinema circa 14 anni fa ragazzi un film che mi piacque tantissimo perché aveva un qualcosa di di veramente figo un clima un po che richiamava un po i titoli di james bond anni 70 con una musica particolare che passava da una scena l'altra e quindi torna tt games sappiamo che ormai la sua strada è con lego fanno tutti i giochi del lego faranno anche lego console generation ovvero un gioco dove non non devi fare niente stai fermo e ascolti e quindi tt games torna ancora una volta dopo harry potter tutti i capitoli dopo marvel dopo gli avengers dopo indiana jones dopo jurassic park mettete tutti lego che vi vengono in mente tanto l'hanno fatto e arriva appunto gli incredibili gli incredibili che come trama è interessante perché parte raffaele da dove finiva il film il primo film finiva con questo personaggio di cui non si conosce la provenienza il minatore che arrivava da sottoterra con la sua trivellona gigantesca finiva il film e rimanevamo in attesa di ma ci pensa ma ci pensa ci pensa tt games che ci fa partire con il secondo episodio bisogna capire quanto sarà in linea col film che uscirà ragazzi raffaele mi vai a cercare poi quando esce il film il nuovo degli incredibili che non vedo l'ora esca il cinema e però ho quasi la certezza che non sia non prende la trama reale reale del film che vedremo al cinema e parte con questo secondo diciamo così secondo e incredibili per poi ritornare sui passi del primo fa un giro un po strano raffaele parte dal secondo per tornare al primo però la chiave del gioco di tt games è sempre la stessa ovvero la capacità di interagire fra i vari personaggi premendo nel caso della mia versione l'ho provata sul playstation 4 pro col tasto triangolo si può passare da mister incredibile a elastic girl oppure violetta oppure flash o anche jack jack il piccolino cattivo che ha tante trasformazioni diventa divertente lo conosciamo un po di più questa volta almeno nel gioco sai un po meglio quali sono sembra un diavoletto è anche dal trailer del secondo sembra un diavoletto il secondo film uscirà il 19 settembre quindi dopo l'estate non vedo l'ora qui in italia mentre invece in america è già uscito il 5 giugno aspettiamo con calma e quindi si può lavorare con le abilità di questi personaggi per cercare di passare il livello un po come abbiamo visto in tutti gli altri lego si può giocare a più giocatori giusto per potersi aiutare e parte facendoci proseguire in questa storia non in modalità libera quindi ci sono dei passaggi obbligatori per poi arrivare al gioco in open world classico dove posso anche non seguire la storia e girovagare per la città a caccia di quest secondarie malviventi però diciamo che la storia va via in meno di dieci ore raffaele la fai fuori velocemente non sono non è molto lunga ma la cosa che mi interessa però andrea è principalmente interesserà a tutti quelli che hanno già giocato i titoli precedenti della lego ok la formula sempre quella non si cambia sì sì sempre quella non diventa un po e no è diventato un po noiosetto un pochino sì è ripetitivo ragazzi è un gioco ripetitivo perché abbiamo visto in passato questo stile di gioco che non cambia marcia cambia i personaggi cambia la storia graficamente su playstation 4 pro la grafica è molto bella pulito perché comunque i lego hanno pochi poligoni anzi sembrano quasi fatti apposta per avere meno problemi di programmazione per quanto riguarda le 3d texture perché ovviamente sono colori piatti pastello e rende meglio per i programmatori però il problema è un altro raffaele ci sono punti non open world perché non va a 60 frema secondo perché il motore grafico si vede che hanno sviluppato per stare sui 30 punto e amen ricordati che lego gli incredibili come un po tutti i giochi lego viaggia su tutte le piattaforme quindi non lascia indietro nessuno e probabilmente vogliono fare un motore grafico che sia funzionale su una playstation 4 pro o un xbox one x e altrettanto su console meno potenti come switch è vero è vero anche questo ecco questo è vero però non è colpa mia se possediamo in questo caso le console più performanti e comunque risultato e non poter usufruire delle loro capacità vabbè comunque è un titolo consigliato senza dubbio ai più piccini come tutti gli altri lego raffaele a parte forse un paio ma non mi vengono in mente diciamo titoli particolari da sconsigliare più piccoli lego va bene un po tutto dove devi trovare anche dei personaggi all'interno carina questa cosa dove trovi dei pacchetti lego che devi scartare sono una sorta di collezionabili che ti invogliano un pochettino di più a andare avanti con più quest però anche questa è una formula già vista negli altri lego quindi divertente quanto non lo so lì dipende da voi se avete un pargolo un cuginetto un nipotino un fratello una sorella una sorellina la nonna la mamma e non lo so con cui giocare insieme perché ci sono ovviamente alcuni passaggi anche con le auto le moto solita meccanica però ragazzi sicuramente non è il titolo dell'anno questo lo possiamo dire tranquillamente un po di fiacca e i personaggi sono molto carini mi piacciono la famiglia di incredibili però ragazzi niente di più magari un gioco per famiglie dai senza dubbio una domanda che arriva dalla chat non riguarda l'ego c'è marco che dice oggi ci doveva essere la prova di the crew 2 di raffaele vero e no perché è arrivato stasera e no ma parte quello purtroppo questa settimana sono stato molto impegnato sul lavoro e quindi non ho potuto neanche mettermi alla prova poi sapete com'è il tempo è sempre quello che è e quindi ci giocherò questo weekend e la settimana prossima ne parlerò cosa meno vediamo parlerò della versione playstation 4 a dispetto di perché qui siamo su console generation quindi diamo priorità a playstation 4 anche se 60 fotogrammi al secondo del pc per me fanno la differenza eccolo lì ragazzi ci aveva fatto il pippone perché lui stava provando la beta su pc e quindi performava giustamente ci mancherebbe hai visto console generation ti è arrivata la copia per per playstation attenzione attenzione vi faccio un piccolo una piccola anticipazione nelle notizie avremo già i voti medi tramite metacritic di the crew 2 fai molta attenzione sì sì lo so ma io fai attenzione ma io guarda il chat non li sapevo in anticipo i voti ma io in chat però c'è rino che dice che ci sta già giocando bello the crew 2 l'ho iniziato e mi ha colpito positivamente quindi rino se ci stai giocando su playstation 4 probabilmente ci capiterà di vederci e di beccarci in giro per la strada e start unitense ho fatto una chiacchierata con rino abbiamo un'opinione completamente diversa perché giustamente lui ha piacere con questo titolo lo sappiamo a me non colpisce neanche un po' capito ma tu non puoi giudicare così scusa altrimenti non sai che cosa faccio io sai che cosa faccio faccio la the crew 2 curiosity invece della no guarda che c'è quella tua xbox one x occhio che è già sul tiro del rasoio potrebbe cadere non tirare la manata altrimenti poi sai che cosa faccio una volta che cade per terra la prendo e la metto lasciami concludere la metto sugli annunci improbabili taci rino sei un caro amico per cui rispetto sempre la tua opinione però ci sta che una volta non la pensiamo allo stesso modo quindi dai andiamo avanti perché è arrivato il momento di che cosa raffaele facciamoci due risate dai facciamoci due risate no no ho sbagliato maledizione gli annunci improbabili sono questi questa è la musica che ti merichi merichi meriti ti meriti tu raffaele perché sbagli sempre il pulsante questa contessa questa contessa sbaglia tutti i cognomi sbaglia con due l sì e chi capisce questa citazione un premio eh mi raccomando va bene allora allora abbiamo questi annunci improbabili ovvero l'ho detto prima con che cosa questa volta marco si è sbizzarrito eh ce ne sono sei allora vai raffaele c'è il joystick scritto joy con la i normale la k finale senza la c joypad perché così raddoppia controller così la triplica xbox one punto come nuovo originale microsoft punto a capo perfettamente funzionante punto a capo ottime condizioni punto a capo come nuovo punto a capo ma questa è fantastica è pulito ma va punto e a capo compatibile con tutte le xbox one 25 euro 25 euro li vale non è malvagio se fosse nuovo è anche pulito ma la cosa buona è che è pulito se pulito gliene do 26 ascolta ma rinomaggio ha capito rinomaggio ha preso la citazione quindi se non l'avete capita andate a riascoltarvi oppure andate in chat così imparate a non essere in chat e vi vedete a che cosa si riferisce raffaele vuol fare il rebus fa il mic buongiorno e facciamo un facciamo un facciamo un una 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 un come si dice un un aneddoto un aneddoto facciamo un aneddoto facciamolo aspetta come creare un aneddoto allora la scuola di raffaele cinque gradi prendete un po di cartone un po di colla vinilica e dei colori acrilici no che serata ti è mai capitato di andare a casa di un amico che però mi è capitato di andare a casa di un amico che però non vedi tanto spesso così e anche lui gioca e giochi in due questo magari ai tempi e ti dava in mano il pad tutto appiccicoso no tutto appiccicoso con un po di sporcizia sai del sudore che rimane attorno ai tasti e rimane tutta la cosa ti è mai capitato? mi è capitato più che altro nei luoghi pubblici dove magari fiero altro dove ci sono magari un po anche le retro console dove trovi la croce direzionale di playstation o di nintendo mi viene in mente che aveva quei triangolini con dentro il nero mamma mia ragazzi che schifo vabbè dai almeno quelle pulite andiamo avanti con il prossimo perché sempre a tema xbox 360 con due joystick scritto bene 80 euro allora dice vendo a 80 euro per non raffaele ma chiuso l'immagine attendete che riprende vita codesta a 80 euro per non tenerla come soprammobile oppure scambio con ps3 valuto altre proposte tipo telefono e altri dispositivi elettronici come monitor eccetera l'xbox ha bisogno di una pulizia interna aiuto in quanto ha preso tanta polvere per altre info via mail tramite nella foto si vede la completa assenza dello sportellino di alloggio per l'innesto delle due porte usb quindi è completamente asportato l'ultimo non so quanto conviene spendere 89 euro per una 360 decisamente messa male questo è un annuncio complicato signori perché questo signore vende dei giochi xbox one e li dispone in due colonne su una colonna fa il segno della sulla seconda colonna fa il segno della b perché qui bisogna fare le composizioni con la colonna una valanga di titoli nell'altra c'è perché nella b ci sono i titoli belli nella a le fetecchie no non lo so se è così allora tre giochi xbox one a 50 euro due giochi dalla colonna a più uno dalla colonna b a 50 euro spedizione inclusa pagamento paypal hai capito perché nella colonna b c'è mad max che io prenderei e glielo lascerei tutto quanto in fila e dall'altra parte invece c'è fifa 15 e fifa 16 che hai capito no c'è anche gears of war però c'è anche payday 2 sì e anche l'os of the fallen e poi vabbè comunque andiamo avanti diciamo che ha trovato un modo un po strano per fare un'insezione e cambiamo casa andiamo in casa sony perché in chat ci dicono che ci siamo bevuti la grappa prima della trasmissione sì sì stasera ragazzi abbiamo mangiato ancora il gelato attenzione raffaele a piedi nudi salutiamo anche dylan il cane che si è appena collegato ciao bau 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 allora cambiamo console andiamo su playstation 4 da un terabyte a 17 euro da come possibile dai da potenza vendo ps4 slim qual è la 4 slim qual è da un terabyte non lo so è impazzito un terabyte compresa di cavi e joystick più un gioco in regalo vendo ad euro 170 euro tenuta maniacalmente pulita ogni mese c'è qualcosa che non va è cambiato il prezzo quindi priva di polvere o muffe dai e funziona sia il lettore blu ray che la connessione ad internet per foto e altre info mandare un messaggio risponde subito ma non si capisce non è ben chiaro e beh 170 euro ti prende perché diceva 17 euro è sbagliato questa contessa sbalia pure i prezzi xbox 360 videogiochi con console non si spiega ragazzi ditelo a tutti console si scrive con una l non con due hai capito un po come vi ricordate negli anni 80 quando c'era liabel o liabel si dice liabel liabel sto in silenzio ecco e qui ci sono pure le console vendo in ottimo stato xbox 360 con accessori ed eventuali videogiochi recenti tipo fifa 18 non riesco a fare foto perché è già imballata ma si può provare cosa vuol dire fai la foto con l'imballo è però non è la scatola originale sarà dentro il cartonaccio quella magari del detersivo il cielo fanno che schifo ragazzi che schifo ultimo allora questo vende angelo vende angelo a 190 euro questo da olbia è francesco vai a prendere questa console che si chiama angelo a 190 euro vendo ps3 in ottime condizioni 190 euro non connette a internet e non connetti tu che quando fai una recensione vendi te stesso scusami un'inserzione vendi te stesso fantastico a 190 euro perché ci teneva a farti sapere che lui si viene da olbia e quindi ascolta in chat francesco dice sì rino marco gabriella andrea raffaele tutti quanti che è neghetti andrea raffaele stasera sembrano quelli del video che vi ho mandato nel gruppo di whatsapp i due con lo scooter non l'ho visto e neanche io non l'ho visto perché non hai whatsapp perché non ho whatsapp e mai l'avrò però è una cosa mia detto questo raffaele detto questo è una giornata un po strana una giornata no ma cosa c'era nel gelato nel gelato non lo so però effettivamente abbiamo mangiato il gelato no sapete perché perché c'è un po di aria fresca che ci arriva dal condizionatore è vero cominciamo a rivivere mamma mia ragazzi un'umidità fetente va bene torniamo seri come tutte le puntate quando si parla di news da spazio games c'ho il volume delle cuffie un tantino alto e stranamente hai azzeccato il pulsante no è prima che ho sbagliato non che stranamente ma perché ti viene l'adrenalina il dietino va a mille ragazzi dovete vedere ha nove pulsanti tondi grande come una moneta riesci a mancarli riesco a mancarli va andiamo raffaele andiamo con oddio questo era il nome fatto per te però è si chiama cos'è ben on come si pronuncia è scritto h u w ragazzi mandateci un audio whatsapp o qualche cosa un audio in in via facebook o quant'altro per sapere come si pronuncia ben on global brand manager di deep silver ha fornito alcuni dettagli aggiuntivi in merito alle grandi ambizioni di metro exodus ovvero il terzo capitolo della serie in arrivo il prossimo febbraio sembra molto figo come riferito da baynon il gioco godrà di un ciclo giorno notte pieno perché di solito il ciclo di giorno notte sai si interrompono a metano va bene e meteo dinamico e darà la possibilità di passare giorni di tempo in game e cercare risorse e cacciare all'aperto forse giorno e notte pieno intende in tempo reale cioè 24 ore ma stai scherzando perché non potrebbero ma figurati perché non posso farlo non possono farlo però diamine uno finisce per giocare sempre di notte giochi di giorni va beh vi porteremo attraverso le quattro stagioni un po come forza horizon 4 e ci saranno alcune location incredibili che potrebbero sorprendere i fan di metro il gioco introduce alcuni nuovi elementi ovvero la libertà del giocatore tanto richiesta dai fan ma c'è ancora un ordine un ordine lineare andrea giochi un livello lo completi e ti sposti abbiamo introdotto un po di livelli enormi li chiamiamo i livelli sandbox survival ciascuno di essi può durare molte ore di gameplay legato alla storia principale e ancora di più se invece esplorerete le missioni secondarie in arrivo a febbraio devo dire che metro ha la mia attenzione stando una nuova immagine trappelata in rete e riportata da vccf tech che sarebbe va che cavolo fetente tech call of duty black ops 4 supporterà un massimo di 60 utenti online ammazzate ciò vuol dire che la modalità di battle royale black out che non ancora un player count definitivo potrebbe ospitare al massimo 60 giocatori connessi simultaneamente tra i archi activision hanno spiegato fin dalla presentazione di stare lavorando all'implementazione del numero quanto maggiore possibile di utenti suggerendo che ci sarebbe stata la possibilità di non raggiungere lo standard aureo di 100 gamer 100 cos'è come ok il prezzo è giusto 100 100 speriamo di saperne di più a breve anche in considerazione del fatto che una beta privata è prevista per l'estate e non dovrebbe arrivare più tardi di agosto anche perché dopo agosto è settembre e quindi esce il gioco bella the elder scrolls 5 skyrim è uno di quei giochi che anche a distanza di tempo continua a vedere sempre nuove versioni allora perché succede è così todd howard ha spiegato appunto quelle ragioni di questa cosa ha detto ma chi è todd howard sarà il creatore sarà adesso perdonatemi magari qualcuno di voi che è appassionato di skyrim dirà come fai a non conoscere todd howard ma chi si frega di todd howard basta che me lo gioca conosco yu suzuki e sagaguchi ma non conosco todd howard allora dice che il gioco di ruolo è tuttora molto molto giocato e richiede in tante edizioni e richiede a e richiesto in tante edizioni differenti per altre tante piattaforme ed è per questo che lo sviluppatore publisher non si fa problemi ad alimentare questa fame vabbè insomma insomma continuano a farlo a sorpresa sega ha pubblicato una demo giocabile e a te dovrebbe interessare raffaele di yakuza kiwami 2 su playstation store appunto per ps4 potete anche scaricarla tramite browser tramite un indirizzo che trovate su spazio games nel gioco un anno dopo l'incidente da 10 miliardi di yen kazuma kiryu inizia a costruire una vita pacifica con haruka sawamura strappandolo via dalla sua pace un assassino un assassino minaccia di far esplodere ma perché assassino un assassino minaccia di far esplodere una guerra non è l'assassino è ciò che ha fatto l'assassino quindi l'assassino ottimo bene comunque andate a scaricarvi questa questa demo perché è tutta un pippone infinito per dire che c'è la demo di un gioco che arriverà il 28 di agosto e io anche questo non vedo l'ora di giocarci il problema è che iniziano a esserci veramente troppi titoli rispondendo a un tweet di un appassionato il produttore mark darà darà ma che razza di noi ci sono darà ascolta io non devo parlare perché cinque grana insomma già non è il massimo della vita comunque si ma darà darà perché la darà ha rivelato che i nemici e il loro comportamento cambierà in base all'orario del giorno in antem com'è che l'orario del del c'è scritto del giorno in antem ah ho capito quindi a seconda dell'orario darà se limitato a replicare con un semplice sì alla domanda per cui non sappiamo di preciso se intendesse che a cambiare saranno i nemici che vedremo sulla mappa o soltanto il comportamento come la loro aggressività di quelli già visibili di giorno oppure entrambe le cose io chiamo matteo di spazio games perché sono di un criptico queste news raffaele vero no onestamente questo è un pochino questo è un pochino comunque antem sarà disponibile al 22 febbraio 2019 questo è chiaro per pc ps4 e xbox one se non posticipano se non posticipano comunque todd haward è dove ha preso le redini dello sviluppo di the elder scrolls 3 morrowind di conseguenza divenne da game director di tutti i giochi di bethesda softworks seguì venuti in seguito bene ok rino maggio dice che anche lui vuole il gelato che abbiamo preso noi però farti qualche chilometro di strada comunque non so chi sia mi dimenticherò assolutamente chi è il basta sono stuputo vediamo che c'è un altro nome e se riesco a incartarmi in una recente intervista con game informer il design director mike chapman che è l'uomo delle chiappe mamma mia no ha commentato la possibilità alquanto fantasione fantasiosa a dire il vero che sea of thieves guarda tutto attaccato ragazzi le parole tutte attaccate sea of thieves accolga tutto attaccato una modalità battle royale in futuro ma ci potrebbe stare sarebbe carino secondo l'uomo delle chiappe ci sono tanti esempi di contenuti nel gioco che approcciano così parliamo sempre di una meccanica per la morte e l'abbiamo trasformata in una nave fantasma mettiamo un tocco di sea of thieves su una meccanica familiare con approcci nuovi e interessanti vediamo la cosa della battle royale ma penso che ci saranno opportunità per fare quel tipo di cosa diversamente non ci ho capito niente è interessante aggiunge e mi sembra tutti un po un po al limite raffaele non ti sembra no perché siamo noi che siamo probabilmente sì ragazzi siamo noi questa sera che sia una delle puntate più ubriache veramente dell'ultimo periodo io torno in gelateria e gli chiedo alla signorina che cosa che cosa ha fatto vabbè parliamo di rare invece che ha deciso di celebrare il ventesimo anniversario della storica serie platform di banjo kazooie rilasciando un oggetto in game a tema nel recente sea of thieves e chi se ne frega che ne so se ci giochi e se ti piace il nuovo oggetto a tema banjo kazooie è una polena una polenta una polena raffigurante un orso con uno scudo con impresso un orso scusa con uno scudo con impresso un uccello ragazzi si è puntata ragazzi fila via liscia la scultura in legno costerà ai giocatori 1998 monete d'oro perché è stato proprio nel 1998 che questo gioco uscì essendo un oggetto a tempo limitato i giocatori di sea of thieves dovranno acquistarlo entro e non oltre il mese di luglio quindi è troppo tardi e il mese di luglio cosa scritto entro e non e non ragazzi ragazzi andate su spazio games ci sono nelle ultime news che trovate un bel po' di bordelli tutto quello che dovreste fare e raccogliere l'oro necessario e recarvi e recarvi in uno shop right shop ship right shop uno ship right shop presente nel gioco come si dirà in italia ship right shop però sappi raffaele che sea of thieves ha da poco superato 4 milioni di giocatori l'avresti detto eh rispondi si rispondi vuoi uscire continua a far parlare di se il cross network play che è tornata di recente alla ribalta dopo il caso di fortnite dopo essere stato integrato su minecraft per utenti nintendo e microsoft a tirarsi fuori è invece sony che al momento non ha nessuna intenzione di rinunciare all'esclusività della sua corposa community di giocatori come confermato anche da bungee gli autori di destiny 2 sarebbero a loro volta interessati a far giocare insieme utenti su piattaforme diverse anche se al momento non c'è un piano concreto per rendere reale questa possibilità bisognerà vedere se l'interessamento di steve cotton e scott taylor chi sono due cantanti forse si tramuterà in realtà nei prossimi mesi o se i giocatori di destiny 2 rimarranno confinati ciascuno sulla propria piattaforma anche betesla nei giorni scorsi ha parlato di una sony poco collaborativa poco collaborativa per un possibile cross play su fallout 76 e boh si preannuncia un periodo un po' strano io avevo detto io spero che cambi l'idea esatto che a fortnite sarebbe arrivato ad aprire le sue porte se no manca qualcosa c'è qualcosa che non sappiamo metacritic metacritic parla di una media voto per the crew 2 di 67 su 100 quindi un 6 e mezzo su playstation 4 un 6 e 6 su pc e un 7 su xbox one alcuni dei voti vedono passare dai 9 e 8 8 per esempio game spot uno su 70 testate ha dato 9 playstation universe ha dato anche 8 dopo di che si va sui 7 dove si trova pc games the six axis spaziogames.it ad esempio ecco ragazzi gli spaziogames ha dato 7 destructoid ma si va anche un po' più in basso è perché per esempio c'è un cg magazine che non è console generation magazine probabilmente no è perché tu non gli avresti stato 5 ecco tu ne avresti stato 5 io si e un videogamer.com mi ha dato un 5 e poi un che altro un game informer un 6 ragazzi aspettate il verdetto mio quando ci giocherò dopo di che deciderete se prenderlo oppure no certamente ognuno ha i suoi gusti probabilmente per qualcuno non è da 10 è da 79 da 0 a 10 a 79 però i voti medi che sono in giro dicono che è un gioco medio un buon gioco un ottimo gioco un gioco che non lascia il segno un buon gioco che non lascia il segno dai forza e tocca a te allora l'associate creative director chadi el zibaoui così si dice chadi el zibaoui eh vabbè zibaoui questo c'è anche la petroliera ha garantito a largo dell'omano ha garantito in una recente intervista concessa a gaming bolt che la campagna di the division 2 sarà molto robusta persino per chi giocherà da solo perfetto oh questa è una bella notizia perfetto mi piace perché si può giocare online con gli amici più bello the division a mio parere negli ultimi anni il miglior titolo di ubisoft anche metto anche il primo watchdogs tanto criticato ma primo lo metto quindi the division al primo posto e poi the division scusami watchdogs e al terzo posto però è talmente bello da giocare in compagnia che sicuramente la morte è sua però giocare da solo non male il titolo è giocabile completamente da soli persino le sue attività in game ha spiegato el zibaoui ci saranno certe attività come ride per otto persone naturalmente per questo genere di sfida i giocatori dovranno raggrupparsi con gli amici ma va ma abbiamo una campagna molto robusta ancora una narrazione profonda tanti misteri quindi se giocate da soli avrete tanto da esplorare nella campagna dal day one forniremo davvero contenuti per ogni genere di utenza non soltanto per i fan hardcore ma anche per chi gioca da solo questa è la strada giusta secondo me da portare avanti sempre sono d'accordo non solo multiplayer non solo campagna in single player sono d'accordo anche campagna co-op non è che mi dispiace tanto beh campagna co-op alla fine ci sarà no? sì no ma parla anche di altri titoli perfetto allora Andrea è arrivato il momento di parlare di una notizia che dal mio punto di vista merita di essere la bomba della settimana non mi fido di te ormai non mi fido più però ti prendi la responsabilità accendiamo si parla di next gen si parla di quello che potranno permetterci di fare le nuove playstation 5 la nuova xbox che chiamiamo come nome in codice scarlet che cosa ci daranno? ci daranno ovviamente dei mondi più grandi ma quanto più grandi? ce lo dice indovina un po' ce lo dice indovina un po' Lionel Reynaud di Ubisoft executive vice president appunto di Ubisoft che ha parlato della possibilità di addirittura nella saga di Assassin's Creed di diverse timeline presenti all'interno dello stesso gioco insomma è come se vi potesse trovare di fronte a un Assassin's Creed che vi permetterà di viaggiare fra l'antica Grecia di un Odyssey a la Parigi di un come si chiamava quello che era uscito a Parigi di Unity a una Londra di Syndicate eccetera eccetera tutto quanto che coesiste nello stesso mondo grazie alla potenza di queste nuove console si sarebbe un gioco infinito quasi potrebbe però insomma dice tra l'altro potendo utilizzare l'animus per viaggiare da un mondo all'altro allora non è un po' azzardato secondo me no secondo me no alla fine quello di cui hai bisogno per fare una cosa simile non è tanto la potenza di calcolo ma tanto spazio perché tu potresti comunque anche oggi mettere diversi periodi storici dovresti avere texture, dialoghi e quant'altro quindi le nuove console si dice che avranno una potenza maggiore non si è mai parlato di una capacità di magazzinamento dati ti danno due dischi, tre dischi che poi dovrai installare tutti quanti sull'hard disk cioè mi sarei aspettato ok è una bomba un po' loffia un pochettino loffia però ti fa pensare si dice il ragionamento si applica anche ad altri titoli di grandi franchise di Ubisoft perché sempre secondo Reynaud in Far Cry o Watch Dogs potremmo avere gli eventi che si svolgono in diversi paesi contemporaneamente ecco questo magari potrebbe essere qualche cosa di più interessante a me hai fatto venire in mente se fosse così due o tre dischi di installazione se fosse la versione digital download quanto peserebbe? peserebbe tanto già adesso stiamo sui 100 giga per avere tutte le pezze, tutte le mappe più di 100 giga immagino una roba così sarebbe 500 giga solo il gioco cioè dati veramente enormi comunque è indubbio che dobbiamo cercare di capire insieme tutti come appassionati non tanto Andrea Raffaele su Console Generation in quanto tutti insieme che cosa accadrà, che cosa ci aspetta perché le prossime console che cosa avranno di più? la risoluzione grafica, la potenza, la velocità ok ma dove stiamo andando? questa è la domanda che vorrei capire io è un'osservazione che fa Luca in chat dice più che giochi sembrano servizi quindi più una questione di avere e dare un servizio diverso e più ampio rispetto che non rivoluzionare effettivamente il modo in cui giochiamo ma probabilmente questa sarà la strada sarà la strada avere dei giochi che saranno sicuramente più belli dal punto di vista grafico però dal punto di vista del gameplay di come si gioca, che cosa devi fare bene o male faremo sempre le stesse cose spareremo, spareremo esploreremo sempre di più avremo la mascella a terra sempre di più quando dobbiamo guardare i panorami che si tagliano davanti a noi ma tutto sommato beh ci saranno motori grafici nuovi senza dubbio che ci faranno emozionare però guarda per fare una riflessione veloce Andrea rispetto alla generazione precedente quindi rispetto a una Playstation 3 e a un Xbox 360 le console di questa generazione dal punto di vista del cambiamento di come abbiamo giocato e lascia perdere la realtà virtuale che ha bisogno di un'altra cosa è cambiato qualcosa è cambiato veramente qualcosa rispetto a come giocavamo prima? no effettivamente se parliamo di sono dei miglioramenti dei miglioramenti non solo in termini grafici perché senza dubbio un pochettino di fluidità in più l'abbiamo vista in alcuni casi Raffaele però un open world in terza persona è il concetto lo stesso se mi parli di sistema di gioco è la stessa cosa ed effettivamente è quello che un po' mi sta annoiando cioè vorrei vedere un pochino più di cambiamento è difficile inventare però scusa invece di giocare a Legori Incredibili gioca a The Crew 2 almeno vedi qualcosa di diverso no no te lo lascio a te perché a Legori Incredibili è un po' l'abbiamo detto un po' anche noiosetto perché è un po' ripetitivo invece The Crew 2 è il massimo della vita quindi vincerà tutti i premi giocaci tu massimo della vita per degli zombie che sono lì a marcire è la morte sua me l'hai proprio servita è soffietta da gente sì bravo a chi toccava leggere in un'intervista concessa a Game Reactor Capcom ha assicurato i fan dell'originale Resident Evil 2 a proposito del sistema di combattimento che per via dell'inquadratura dietro le spalle è apparso molto simile a quello di Resident Evil 4 e ci sta la come dire il dubbio capolavoro anche a Resident Evil 4 quella Irabayashi ha voluto assicurarsi ma chi è assicurarsi che tutti sappiano che solo perché il gioco ha una prospettiva dietro le spalle una visuale in terza persona questo non è Resident Evil 4 ma va intelligente Resident Evil 4 aveva una prospettiva dietro le spalle ma su un piano concettuale era progettato per essere più uno sparatutto quindi avevi tante munizioni e ti muovevi costantemente nel gameplay questo è vero Resident Evil 2 è invece in termini di esperienza un classico survival horror come Resident Evil dall'1 al 3 gli originali per dirla tutta passare a quella prospettiva non significa che il gameplay sarà in stile Resident Evil 4 e questo si riflette anche sul combattimento è uno stile più old school e ci sta ci sta anche se Resident Evil 4 mi è piaciuto tantissimo veramente tantissimo io non ci ho giocato com'è che faceva quello lì che ti tirava le parolacce in spagnolo allora diamo un contesto per chi non ha giocato anzi per chi ha giocato a Resident Evil 4 saprà di cosa la citazione che sto per fare chi non l'ha giocato non ci ha giocato vada a recuperarlo comunque c'è una cittadina in Spagna dove ci sono queste persone come posso dire ipnotizzate che quando suona la campana della chiesa si chiudono dentro e dicono cose tipo apurem detras de ti che vuol dire dietro di te e poi ti dicono anche mierda è vero li senti dietro di te che dicono parolacce parlano in maniera strana però sono tipo dei contadini dei campagnoli col forcone col forcone con le pale non rubare la pannocchia no te vuoi essere piccadio che vuol dire ti vuoi a mattare ti ucciderò è bello è proprio invitanti e poi c'è questa cosa che ogni tanto apurem ti gira questo qua apurem vabbè gran gioco Ale dice in chat che in tanti si lamentano di questo cambio non si ricordano i comandi legnosi del 2 è vero in tanti non si ricordano comunque si ha ragione ha ragione Massimiliano che la butta lì sul comico in questa generazione è cambiato l'ordine di gioco compri installi e aggiorni e poi giochi e beh effettivamente è vero Luca invece dice che è cambiata sempre in questa generazione la progressione nei giochi ormai tutto è diviso in comune raro leggenda esotico anche in The Crew 2 ha ragione posso aggiungere una cosa Raffaele forse mai come in questa generazione abbiamo appunto visto che dopo l'acquisto di un titolo fra contenuti scaricabili DLC Season Pass aggiornamenti ti porti avanti un titolo spendi molto di più però è un po' più corposo nel tempo ah beh si è un po' più ricco anche un po' più ripetitivo perché fai sempre le stesse cose va un po' contro però all'effetto ho poco tempo esatto ho bisogno di qualcosa un po' più arcade one shot e non so ho un'oretta e basta ho mezz'ora di tempo libero oggi mezz'ora di tempo libero per giocare a un videogames non ci fai niente non accendi neanche invece qualche anno fa con mezz'ora un paio di cosette le facevi penso a Street Fighter penso mi ha stufato Street Fighter è la collection del trentesimo anniversario da provare bene ci parlerà di un gioco nuovo qualcosa di mai visto prima rivoluzionario beh a suo tempo fu rivoluzionario ma allora andiamo al brand di chiusura che è Cheer Up cosa vuol dire? Cheer Up vuol dire Cirashi ovvero quel piatto cirappe qualcosa tipo che mangio dal giapponese con il riso sotto e sopra il pesce giusto? si esatto il cirashi il cirashi questo qua invece Cheer Up che dovrebbe essere cosa tipo si veramente sorridi o qualcosa allegria ecco allegria allegria per tornare a mai buongiorno esatto pace all'anima sua tratto da Andrea da Rage of the Dragons ovviamente selezionato come al solito dal nostro Pierluigi Bellini da PlayAsia.com che la settimana scorsa ci aveva deliziato con un intervento dove ci diceva che stava giocando a Final Fantasy 5 in chat Marco diceva ma anche la volta scorsa stava giocando a Final Fantasy 5 sei mesi fa no stava giocando Marco ho controllato stava giocando a Final Fantasy 4 quindi ha finito il 4 e sta iniziando il 5 quindi è la prossima volta è la prossima volta è il 6 ovviamente Raffaele prima di salutarci visto che si è andato a fare i tuoi corsi di edizione e quant'altro la prossima volta che mi dici perché ti stacco un incisivo ma si dice così no si dice perché no si dice perché ti conosco da più di 30 anni hai sempre detto perché più di 30 anni avevo 10 anni lascia stare e quindi arriva fuori da un ragazzi conoscete il vostro amico dopo tanti anni perché perché un giorno te ria perché le persone serie le persone serie dicono perché ascolta tu non sei serie tu dici questo no tu dici questo io rivolgo Raffaele tu dici questo io dico questo no dico questo no questo o questo questo no tu dici questo mi hai mandato in bolla tu dici questo ed è giusto io dicevo quello ragazzi io dicevo questo questo invece si dice questo Raffaele basta io rivolgo Raffaele un saluto a tutti ricordandovi che forse il joypad non cambia la vita perché addolcisce e quindi giochetti 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 ma stai dicendo mica sei un barese giocate 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 grazie a tutti grazie a tutti